La Lazio è una squadra che sta facendo un ottimo campionato, momentaneamente ha fatto 54 punti rispetto ai nostri 59, quindi è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato all'inizio quando si contraddistingueva soprattutto per le sue grandi difese e quest'anno la Lazio è la migliore difesa del campionato perché ha subito solamente 19 gol, 6 Klicic e quindi gli ultimi 6 e quindi per noi domani sarà una partita difficile e complicata. La cosa più importante e di questo sono orgoglioso della Juventus che comunque nel giro di 24 ore ha preso quelli che hanno fatto insulti razzisti e soprattutto la Juventus combatte ogni tipo di discriminazione nei confronti di tutti i gesti razzisti che siano bianchi o che siano neri. Non cambia niente perché siamo tutti uguali, però i gesti di discriminazione razzisti sono uguali per tutti. Quindi la Juventus su questo sta combattendo come bisogna combattere tutti, però bisogna essere bravi e dare esempio a noi e quello che è successo sicuramente è una brutta cosa per il calcio. Ci tenevo in modo particolare fare un grosso buccalupo al presidente Silvio Berlusconi e gli mando un caloroso abbraccio con grande affetto sperando di rivederlo il prima possibile.